Sindaco, è stata la questione più spinosa del rientro al lavoro dopo le vacanze estive, quella legata al trasferimento di Pier Federici al PSI che sembrava aver anche spaccato la maggioranza e invece oggi arriva la parola fine a questa questione. Ma credo che è una parola fine per una cosa che non è mai iniziata. La vicenda di Pier Federici è di un consigliere comunale che si scrive, che peraltro proveniva dalla sinistra, che si scrive al Partito Socialista dove un partito è libero di scrivere chi vuole e chi si scrive è libero di scriversi a qualsiasi partito. Non possiamo che prenderne atto di questo voglio di ringresso. La maggioranza tuttavia ha ritenuto di opportuno che Pier Federici non partecipasse alle riunioni di maggioranza per il codice etico che è stato firmato, Pier Federici per tutta risposta ha detto che non intende partecipare alle riunioni di maggioranza che comunque avrà nel proprio assessore di riferimento Balloni e nel sindaco che ovviamente appoggerà, avrà questi punti di riferimento per cui non riterrà opportuno partecipare alla maggioranza. Gli altri ritengono che sia altrettanto inopportuno partecipare, ma la questione è chiusa. Pier Federici voterà le delibere che vuole, sarà libero di votarli e di non votare. Anticipato che voterà le delibere si rapporterà con il suo assessore, dopodiché nessuno può rifiutare un voto dato liberamente da un cittadino, per di più iscritto al Partito Socialista che è un partito che appoggia la maggioranza. Quindi ritengo che questa vicenda sia chiusa, adesso dobbiamo invece affrontare le questioni serie, che sono l'acqua, che sono il social housing, che sono l'italcementi che porterò, che sono le terme che porterò, che il fiumaretta abbiamo attivato una trattativa per venderla all'autorità portuale, le grandi questioni che cominciano a creare sviluppo e occupazione. Mi pare che fare polemica su una stupitaggine per Federici sì, per Federici no, segna perdere visto l'obiettivo principale.